terza centro è un ruolo che giocavo anch'io tra l'altro ho passato tra la seconda linea numero 8 terza centro è un ruolo molto importante perché è il finale della mischia quindi deve giocare i palloni guadagnati dagli avanti deve essere molto potente cercare la prestazione ma anche essere un buon difensore